Ciao, oggi vi presentiamo a Chiappa il fantasma! Un gioco divertente per sviluppare la manualità dei nostri piccoli e la loro coordinazione occhio-mano. Siete pronti a lavorare con noi? I materiali per questo tutorial sono una vaschetta con acqua, un piatto di plastica, pennarello indelebile, pinzette, forbici. Iniziamo! Disegniamo col pennarello indelebile dei fantasmini su un piatto di plastica. E' un ottimo lavoro di riciclo. Se i nostri bimbi sono piccini, aiutiamoli in questa fase. Una volta che siamo soddisfatti, ritagliamo il tutto. Ed ora, via al gioco! Facciamo volare i nostri fantasmi. I nostri piccoli, con solo l'aiuto della pinzetta, devono pescare i fantasmini. Per aumentare le difficoltà, possiamo anche aggiungere altri oggetti, di forma e colori diversi. Un ottimo gioco di riciclo creativo. Se ti è piaciuto, metti un like! Ci trovi su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest. Iscriviti ai nostri canali! Iscriviti ai nostri canali! Grazie a tutti.